Grazie a tutti 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 Anzi Semperadine dovremmo iniziare Visto che cosa succede quando li fai pensare Non va bene pensarci troppo Bisogna fare una pari a fine primo tempo Poi si vince questa qua Fine primo tempo bisogna portarsi una pari Poi si vince il secondo tempo Marco taglia Marco vai dentro eh Beva era troppo lunga Guarda il movimento di giù Va bene Ricompattiamoci ragazzi Lascia la pola Vendiamola a prendere Ciao cara Stai lì stai lì Ciao cara È loro è loro torna è loro Ragazzi accorciamo Andiamola a prendere Occhio qua largo Dario Bravi Calma Vieni da Gianni Oh zitto Gianni Dai Dai Dario largo Dario largo Vieni giù ma Vieni da prendere Ok Vieni da cattore Vieni da cattore Vieni da cattore Vieni da cattore Per cambiare, fare l'1-2, se non l'uomo è contatto. Vabbè dai! Questa è la seconda parte. Sì. Anche a me è sembrato. Piccoli dettagli. Sì, la struzione. Sì, la struzione. Occhio dietro! Sanluca! Hai visto che era lì? Peccato, perché non si è dato nessuno? Ciao Matteo! Allora, come va? Tu bene? Anche io ho già cambiato il ruolo di Filippo. Sei un portiere anche tu? Davvero? Ma che bello! Ti piace? Bravo, bravo! Poi magari diventi bravo come fratello. Ma è il campionato? Questo è un torneo di calcio setto. Oggi? Sì, è iniziato oggi. Tutto oggi? No, è iniziato oggi. Poi dura... Che squadra sono? Eh, quali rossi? Rossi scuro, vedi? Eh, che squadra sono? Si chiama C-Titan, che è una squadra... di una compagnia... di una compagnia di un nostro amico, che è quello alto alto che vedi. Il numero... Chi è il più forte? Il più forte è... Stefano! Il fratello! Filippo! Diciamo Filippo! Ecco... Mamma... Sei dell'allenatore? L'allenatore, sì. Dei nostri? Sì, sì, sì. E da quant'è che giochi, Matteo? Il tre! Marlon! Il tre! Da quant'è che giochi a calcio, Matteo? Da quest'anno. Eh, bravo, dai. Bravo, Matteo. Seguiamo... Abbiamo fatto un torneo ieri. Eh, bravo, sì, ma... Siamo arrivati i secondi. E oggi cosa hai fatto? Che ho visto due a qua. Alle noi. Occhio! La fascia! La fascia! Ma qua giocano tutti. Il torneo. Vai, vai, vai! Sì, però... In diversi giorni, ogni lunedì, insomma. Ogni lunedì sera vai avanti tutto l'anno. Qua? Sì, qua, qua. Sì, qua. E vai, allora ci vediamo ogni lunedì. Eh, hai visto? Hai visto che bello? Ottimo fascia! E dai, è bello vedere. Dai, 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 dai. Tu fratello sta bene, Matteo? Devi partire subito. Siete in sedia, ragazzi. Devi farlo. Lo stavo per dire io di andare sui strada quando ero. Eh sì, infatti. Lo stavo per dire io. Lui è il mio cuginetto. Lui è il figlio del mio cugino di secondo grado. Cioè, secondo te io li devo mettere un cartellino? Ma giocate con i cartellini? Sì, sì. Sono due tempi da 22 minuti. 22? Sì, 22 minuti. Eh... Sì, le regole sono normali. Vieni, Davide! Calcio a sette. Però calcio a sette, questo. Non so se tu hai mai giocato calcio a sette. Sì, sì. Abbiamo fatto il torneo l'anno domenica. È vero che mi hai detto. Eh? Eh... Lui è lui. Il partire è giallo. Sia lui che lui. Giochi nella Lombardia 1? Sì. Tutte e due? Bravi, bravi. Lui è il difensore più schifato che abbiamo. Eh... Non ci credo. Non ci credo. Sono difensore centrale. Eh... C'è per giurato. Grande. Voglio vederli. Eh vabbè. Stai raggiando. Puoi restare a vedere lì? Puoi restare. Attenti Riccardo! Stai ragazzi! Stai ragazzi! Vai ragazzi! Va bene? Allargati! Un sette! Oh! Bravo! Sì! Sì! Bello cavolo! Sì! Adesso da un paio di anni sta facendo il portiere. Forte? Sì! Perché non sta arrivando un tiro. Sì però comunque è forte. Ci mette molto impegno. Sta... Sta... Nooo! Da là a me che sono un portiere! Dai! Giochi qua! Un bollettino lo fai eh! D'esperienza! Questa è la tipica squadra che fa. Non gli riesci a segnare. Però si viene segnato... Infatti... Esatto! Le persone così vanno internate. No ma hai ragione! Scarica! Scarica! Sì! Dalla dietro! Dalla dietro! Dalla dietro! Dalla dietro! Dai! Sì! Ma meno male! Grazie! Grazie! Ti giuro che si disegnavano qua giù! No infatti c'era davvero da pianta! Ne ho fatti tre! Oggi ne ho fatti tre fuori! Vero? No! 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 E adesso è bravano con i piedi! Nonostante che tu sei in portiere! No! 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 Nessuno ha fatto la partita! No! No! Adesso dove gioca Federico? Tu non giochi? Eh bravo! Tu non giochi? Beh bravo! Quando? Calcio sette? Sì! Beh! Dove? No! No è vero! Undici è più bella! Dove? Con radice... Posso venire? Posso venire? Faccio il portiere. Io le paro. Dai le pari ma voli anche tu il porto. Fa qualche anno le pari alla scuola. Ma cosa vuoi? Vieni! Stiamo andando male? Sì! Vai, vai. Vieni via! No! Bravo Teo! Me l'avete appoggiato? Sì! Guarda, taglia, taglia! No! Porca miseria! Ma no! Ma che sfortuna! Sto ancora io? Cioè io lo compro a FIFA quel portiere E che? Bravo Trascini colpi di testa no No, infatti ho visto Facevi una Come si dice Un po' di cucchiaio Che? Facevi un cucchiaio Segnavo Si ravi una slecca sul secondo palo Sì, esatto Oppure lo facevi buttare Tanto si era buttato prima lo superavi Esatto Lui ha detto Vabbè questo qui si butta Mi lascia lo spazio sotto libero No, esatto Incrociavi Ma bastava anche soltanto Per far così Ho visto i cosi bagliati così Anche in secondo Il quadro è veloce Ma Dicato altro Dell'altro Dell'altro Sì, dell'altro Si sono fatti saltare con un sombrero Tutte e due Adesso Non cercare di buttarci in parità Qua se si butta Vabbè Dai ragazzi Due gollette si vince Dai Puoi già bene Beh Matteo Un altro Ancora così Anche il giro palla Raga Dai Si Guarda devi Guarda devi Forciavo Forciavo Vai Barlon Portiere Portiere Occhio lì Chiamatene lo luogo Ball Guida Tobi Ball Guida Tobi L'arbi L'arbi per giocare L'arbi per giocare Ti ho fatto vedere Ti ho fatto vedere No no Il pazzo sta vedendo Ma i ragazzi Non stanno mica giocando male Cioè bisogna tirare un po' di più Magari Arga mai in mezzo Buono Dario bravo Raga mai in mezzo Tocca dai Sto su Tocca dai 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 Già l'uomo Vai Gianni dietro Gianni dietro Dai dai Già l'uomo Vai Già l'uomo Già l'uomo Già l'uomo Già l'uomo Continui in mezzo Bravo Già l'uomo Dai Dai su ragazzi Stiamo giocando bene E' lato E' lato E' lato Ora mancano i gol Stiamo lì Stiamo lì Mi scoce Tutto bene un gol Così Non sa quante partite Così Vai Gianni Vai Gianni Ma che c'è l'uomo Deci Buono Buono Va bene Così è giusto Occhio al taglio del quattro Un po' giustizia sarà fatta Vai Va bene bravi Dai Vai gli allargare Aspetta Gianpo Aspetta Anno Va bene Va bene Marlon Va bene Aspetta un secondo Si fallo Hai visto Scopri la difesa Che è giallo Bravissimo La difesa Almeno in questa torneo Buono David Così Così Laterale Bravo Joe Cerchiamolo Joe Laterale 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 Lo Vabbè Dai Lontra Gagate Raga Dai Pianni Raga Lontra Dai Convergi fermalo 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 buono il tuo fallo fermo 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 Occhio, occhio! Fuori! Partiamo ragazzi! Guarda qui, via! Bravissimo! Mi ha preparato affatto! Un bravo lui! Burro e marcature! Le marcature, non c'è più bollo! Passaggio corto Marco, passaggio corto! Chi è quello, raga? Una cosa, le marcature! Sì, vero? Siamo! Giocano, giocano, giocano! Sì, vero! Sì, vero! Sì, vero! No, qua no! Sì, vero! 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 Mi preoccupare. Il peggio ricambio.... Marlon! Stai davanti, Fras, Terry. Non cercare c'è di un campone di gioco. proviamo No, più che altro così proviamo a dare più precondità, perché la Lira non ha capito quello che fa E' nostra, dai! E vediamo, può funzionare Che noi manca Dai Manca tirare un po' di più Dove si fa? Dove si fa? Una migliore non ce n'è Questa è questa Questa è questa Questa è questa E' uno schifo tutto questo però E' riuscito a recuperarla, fate un favore E' uscito a prova, sì E' un po' a troppo E' un po' a troppo E' un po' a troppo E' uno schifo tutto questo però E' uno schifo tutto questo però Mi mancano tre Va bene, scarichiamo qui lungo il giorno farò girare si preso bravo occhio 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 la tiro uno qua eh uno qua manco occhio al tiro forte oh occhio occhio a due da qua c'è uno su campo esci esci a uomo dai di nuovo com'è prima raga eh dai secondo palo vai subito subito vai ancora Gianni vai occhio attaccati attaccati non si girano bravo Paul Marlon vai in mezzo via vai Gianni vai vai calma raga va bene vai vai bravo 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 dai uomo uomo in mezzo Marlon bravo vai vai ancora oh dammi una pene lì occhio fare il nove il nove il nove ce n'è lì è in mezzo bravo 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 guarda giù guarda giù guarda giù guarda giù si si guarda non dobbiamo sbagliare ste cose cazzo me l'ha tirato giù però l'hai perso se non lo chiamavo ciao mi sa chiedere di due vai guarda vai sentilo gioca occhio sempre il nove fara 2 2 2 2 2 e lì vai 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 distintivis vale obstro oddos πrulinci 18 10 second 20 13 Stai Stai saliamo Siamo due noi E' chiamato, attaccatemi Sono due attaccati Occhio farà il mare Dario, ma che cosa fai? Devi aiutarlo, non guardare Mancano otto Sì Mancano otto Bravo Gio Dai raga, continuiamo Qua ce ne sono due Ragazzi, dai Arbitro Cambio Dario Tommi vai faccia sinistra Dai, dai, dai Vai Gio Vai Gio, vai solo Vai solo Vai Gio, torna Siamo troppo bassi Fare tuo, fare tuo Non dobbiamo sbagliare i contropiedi però Raga Marcature, non il 4 a Marco Calmo, calmo, calmo Vieni, vieni Non è staccato Dai, 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 dai Non in due così Non deve tirare destro Via, via, via Tommi, via, via Tu non deve lasciare tirare così Tuo Gianni, tuo Marco, tuo uomo Bravo Bravo Gianni, bravo Bravo Gianni, bravo Siete in due Cazzo Aiutali a fare, aiutali Vai Gio, vai Gio Vai Gio Vai Gio Bravo, bravo Guardalo, bravo Siete in due Siete in due Gianni torna tu Gianni torna tu Gianni Vai vai, vai È tuo Bravo Gianni Così Dai, le ultime energie Gianni Dai, dai Quanto manca? Resistiamo raga Raga, sistemiamoci. Oh, giriamola, non è finita, giriamola, calma, 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 raga, non è finita. Dammi, 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 cambia tutto. Anche nostra. Gianni, dai le ultime forze, dai. Bravo, Paul. Dai Marco, tienila Gianni, tienila. Dai, partiamo. Bravo, 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 bravo. Gianni, te sacrificati, il posto fallo. Arbitro, arbitro cambio Gianni. Siamo pure sfiga. Dai, buono. Oh David, lì in dieci. Dai, ragazzi. Vai, 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 non sbagliamo! Noi tutti sono due, Gio! Sono due! Vai! Vai, Giacca! Vai! Butta fuori, butta fuori! Che sbaglio è un codaggio! Vai fuori, ma vai, Gio! Marco, ci sei? Te l'hanno messo già qui. Sì, come prima, eh! Andiamo! Scusa! Posto! Non fa il portiere, lascia! Dai ragazzi, dai! Giochiamo nel corno, non scappiamo tutti! Andiamo incontro, ancora dietro. Ma non sento io. Ma non sento io. Calma, calma, giochiamola, non è finita, giochiamola! Ma non sento io! Io non sento io! Uomo! Tiro! Tira, tira, tira! Raga, calma che non è finito. Un po' da miseria. Calma, raga. Non cominciamo a puntare. Davide, aspetta. Dai, 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 dai. Bravo, Davide. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Para via. Bravo. Mica dimmelo che partito. Di nuovo gioccio indietro. Tre minuti. Tre. Più recupero. Via, 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 via. ah che cavolo raga convinti su ste palle non possono prenderle sempre loro non so cosa dire ho sparato tutto devo fare completamente il potere sta là sta là no è fuori si ma è sconto eh guarda hanno fatto quel campo lì ti ricordi che era la terra secondo palo vai il 9 è tuo david calma 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 giampo calma calma non buttiamola non buttiamola non buttiamola raga non cagatevi addosso raga non cagatevi ma niente calma 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 giocano 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 david non c'è va bene può passare dai ragazzi dai le marcature le ultime quanti ne vuoi Giampo? uno? uno qua non due uno è libero lì lascia la Giampo giochiamola giocchiamola qua qua tienila lungo David fai qualcosa torna 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 un minuto ok dai David bravo dai 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 ragazzi oh il 3 via 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 dai David dai David tienine una via vai 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 la prendi bravo 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 dai lungo David dai dai male tornare da fuoco si si tienila largati dai 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 bravo marco Grazie a tutti.